Noi siamo al BIT di Milano, alla fiera La Borsa Internazionale del Turismo, nello stand della Puglia. Siamo felicissimi di essere qui. Siamo molto fieri di rappresentare la nostra generazione in un evento così importante che è una grande vetrina per noi. Noi portiamo un prodotto che rappresenta la nostra famiglia, che rappresenta la storia di mio fratello in una giornata come oggi molto importante. Due anni fa abbiamo perso mio fratello e ci siamo fatti una promessa, quella di portare avanti il suo sogno, rivalutare il subappenino d'Auno, era portare in alto il nome delle tenute della nostra cantina, ma soprattutto del territorio. È un vino biologico, è un vino che rappresenta molto per il nostro territorio perché si differenzia, ripeto, per la qualità, ma soprattutto perché è un progetto che coinvolge tanti, tanti, tanti giovani. È un vino che è bevuto dai ragazzi, quindi pubblicizzato dalle nuove generazioni.